Allora intanto presentiamo le ragazze, facciamo arrivare la ragazza immagine, però la facciamo entrare con una canzone questa ragazza, se non pensa musica come facciamolo? Si sta arrivando con la bottiglia. Allora intanto abbiamo ragione che non si può campare, senza se non vivare svegli, niente si può fare. Paroli siamo cristiani ed è normale e sbagliati, ma stavamo capissimo, quali fuori errori, quindi portammo avanti durante tutto questo Dio, leggo alla prossima gente. E tanti, tanti auguri e lo voglio fare tantissimo applausi intanto ragazzi. Applausi al nostro padre, che applausi al nostro Samo, è bello di sentire l'urlo ragazzi, l'urlo. Grazie. 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 Gira, gira. Una mano uscena. Gira, gira Dove diventi non è scoc prata Ed non è solito Mi sono amfo Tu le mali c권i Via con me Via con me Via con me Via con me Inizia, vai va? Io che non pari a me in te E guardo a me trovo una parte di mia Se mi insorreguardo ogni santo giorno Passato con te Tu non sai che sempre noi Non è facile, non sai Spiegare quanto noi Noi devo vivere bene Ma noi dopo non c'è Io sogno capito Con questa canzone Solo che in modere così Tu mi vuoi ancora E io stascirovo vieno qui a te Passavano le monti E loro mi crede I chi non sanno che preoccupi te Se mi pare un giorno e direi lontano Mai più vicino di quanto pensavo Dammi la mani e dimmi di amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.